Uccidere non gli faceva impressione. E quello attuale era un nuovo lavoro, tutto qui, che richiedeva prudenza e cervello. Non era questione di odio. Raven aveva visto il ministro un'unica volta. Gli lo avevano indicato mentre attraversava il nuovo complesso di case popolari, tra le file di alberelli di Natale accesi. Un vecchio trasandato, senza amici, che si diceva amasse il genere umano. Nella vita, di solito, la riconoscibilità è importante. Nelle questioni artistiche, ancora di più. L'essere riconoscibile, il cosiddetto X-factor, è ancora più importante della bravura tecnica nell'ottenere successo. Se si pensa a Lucio Battisti, beh, Lucio Battisti era stonato quando cantava, calava quasi mezzo tono ogni tanto. Però era Lucio Battisti. Prova a te a ascoltare una canzone di Battisti e a non riconoscere la voce. Quindi, nelle cose artistiche, la riconoscibilità è un pregio. In altri lavori, un po' meno. Il lavoro del protagonista di questo libro, Una pistola in vendita di Graham Greene, è il killer, la persona che uccide a pagamento. E come si può capire, l'essere riconoscibile non è esattamente un vantaggio. Il Raiden è riconoscibile, perché ha un difetto congenito, il labbro leporino, un difetto acuito da una operazione mal riuscita che, quando era giovane, provocava disgusto nelle ragazze. E che, adesso, da maturo professionista, causa un'immediata riconoscibilità quando va a svolgere il suo lavoro. E quindi, per questo motivo, Raven è costretto a non lasciare testimoni. Ogni volta, se vuole svolgere coscienziosamente il proprio compitino, Raven deve stempiare tutte le persone che gli separano davanti. Sarà quindi abbastanza sorprendente vedere Raven lasciare viva una possibile vittima. E sarà sorprendente per noi lettori seguire questo percorso di discesa agli inferi e di presunta parziale, forse totale, redenzione, perché noi ci troviamo a tifare per lui. Ci troviamo a tifare per un killer, per una persona che uccide a pagamento. E questa è una delle cose grandissime che riesce a fare la grande letteratura. E questo libro è grande letteratura. D'altronde il suo autore, Graham Greene, era una persona che aveva qualcosa da dire, come spesso capita quando si parla di letteratura. È un uomo che ha fatto molti lavori, il giornalista, il critico cinematografico, ha lavorato nell'MI6, nello spionaggio, ha arruolato fra l'altro dalla sorella che già lavorava per l'intelligence britannica e il suo capo era il famigerato Harold Philby, detto Kim. Quindi diciamo che di doppio gioco Graham Greene ne sapeva qualcosa nella vita e il doppio gioco sarà fondamentale anche nella sua opera letteraria. Libri come Il fattore umano oppure Il nostro uomo alla vana mostrano tutte le sfaccettature delle persone costrette a spacciarsi per quello che non sono, di fronte ad altre persone che probabilmente si spacciano per quello che non sono. Questo libro, Una pistola in vendita, non è uno dei più conosciuti di Graham Greene, ma a mio avviso è uno dei più belli, proprio perché compie questo miracolo. Sappiamo fin dall'inizio che il punto di vista che ci viene proposto, quello di Raven del killer, è uno dei più abietti, uno dei più atroci che si possano pensare e il personaggio di Raven non fa niente, assolutamente niente per ispirarci la nostra simpatia. Eppure ci riesce. Eppure riesce a farci capire che cosa l'ho condotto fino a lì e ci riesce addirittura a farci tifare per lui, immergendolo in un contesto che di umano ha veramente ben poco. Il contesto sordido delle attricette e delle ballerine di linea della fila degli anni trenta e degli squalli di ambienti nei quali queste ragazze si muovevano. Il tutto mentre probabilmente sta per cominciare una guerra. E per evitare una guerra Raven tenterà di muoversi in maniera contraria a quelli che sono i suoi usuali principi. Non vi dico di più perché questo è uno di quei rari libri che si legge una prima volta per vedere come va a finire e una seconda volta per godere, per assaporare a pieno la bellezza di una scrittura fluida, dignitosa, con uno stile piano, calmo, tranquillo e dal mio punto di vista di scrittore assolutamente invidiabile. Buona lettura. Grazie a tutti. Grazie.